Cambia che si rinizia tutto quanto da zero. Il primo effetto è quello che maggiormente preoccupa i 10.000 risparmiatori messi in ginocchio dal crack di Veneto Banca. Si ricomincia da capo e si ricomincia a Treviso. Il processo passa nel territorio dove il dissesto ha creato un esercito di vittime. Il GUP di Roma ha disposto il trasferimento alla procura di Treviso per competenza territoriale del procedimento che vede imputati 11 tra ex responsabili dell'istituto e altri manager coinvolti. Tra i nomi più noti l'ex AD dell'istituto di credito Vincenzo Consoli e l'ex presidente Flavio Trinca. Nei loro confronti, a seconda delle posizioni, le accuse sono di ostacolo alle attività di vigilanza di Banca Italia e della Consob e agiotaggio. Il GUP Lorenzo Ferri ha accolto una eccezione presentata dalle difese, dichiarando la propria incompetenza territoriale e ha ordinato la trasmissione del fascicolo alla procura trevigiana. Quindi veramente i tempi della prescrizione probabilmente arriveranno quasi sicuramente. Lo spettro è proprio questo, dati i tempi della giustizia. Io sono stato sempre nel pensiero che qui la cosa o si risolveva fuori dai tribunali, cioè con una mediazione, con una transazione, con le banche, oppure dal momento in cui le banche non ci sono più, lo Stato tramite il fondo si doveva far carico di risolvere questa questione. Già, il fondo, quello che il governo ha disposto ma che deve essere erogato, in attesa di capire cosa accadrà dal procedimento giudiziario, armandosi di pazienza, le risposte più celeri potrebbero arrivare paradossalmente dalla politica, condizionale d'obbligo. Tutti in campagna elettorale hanno dato il massimo supporto per risolvere la questione delle due banche venete e speriamo che adesso mantengano gli impegni presi in campagna elettorale.